La festa della mamma per ricordarci che i problemi sanitari da risolvere non sono solo quelli causati dal covid, resta il cancro uno dei mali da debellare. Con la ricerca, con professionisti che da anni stanno cercando di fornire risposte per salvare vite umane. Nella domenica della festa per la persona più importante per ognuno di noi, con lei che ci ha dato la vita, la mamma, torna il messaggio forte dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, torna il fiore simbolo, la zalea. In tantissime piazze italiane, comprese quelle del nostro territorio, è tornata l'iniziativa della vendita della zalea per la ricerca per combattere i tumori femminili, ma non solo. I risultati negli ultimi anni specie per la lotta contro il cancro al seno sono stati straordinari proprio grazie al lavoro effettuato dai ricercatori. Anche oggi si raccolgono fondi per sostenere la ricerca, per lo sviluppo di nuovi metodi per avere diagnosi precoci e per poter così realizzare terapie più efficaci. Negli anni sono stati raccolti quasi 300 milioni di euro. Insomma, una battaglia da continuare, da vincere anche grazie al grande cuore della gente. Tra l'altro, proprio oggi, 8 maggio, si celebra in concomitanza con la festa della mamma anche la giornata mondiale contro il carcinoma ovarico, tumore che colpisce purtroppo tante donne in tutto il mondo. Alimentazione corretta, evitare sovrappeso, no a fumo ed alcol, queste alcune delle indicazioni per tentare di non aumentare le probabilità di ammalarsi. Nel nostro territorio numerose le iniziative che hanno accompagnato, quella dell'AIRC con le azalè per la ricerca, a Castel San Giorgio vari momenti sociali in piazza della Concordia con musica, spettacoli, animazione e danza con le ballerine di Donatella Zappullo. A Rocca Piemonte in piazza Zanardelli non solo a Zalè, ma anche una mattinata dedicata all'Unicef e ai bisognosi dei paesi africani con la pigotta da adottare per una vita da salvare, le bamboline di pezza regalate ai bimbi presenti. A Zalè a Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Cava dei Tirreni, a Salerno, anche a Pagani la Zalè per la ricerca, tornato ad essere fiore e protagonista di questa giornata dopo due anni. Il Covid l'aveva bloccata questa giornata, ma non ha fermato i volontari, non ha fermato la lotta alla ricerca. Per tutte le mamme, un dono per donare la speranza. Finalmente ci ritroviamo, finalmente siamo di nuovo qui dopo due anni ed è veramente, sono molto felice, è veramente emozionante. La pandemia ci ha un po' distratti tutti da quelle che erano altre problematiche, concentrandoci sul Covid. Adesso ritorna tutto e la Zalè ritorna, come ha detto lei, come regalo per la mamma e come investimento su noi, perché purtroppo il cancro è qualcosa di invasivo e che molto spesso non perdona. La ricerca è necessaria ed è fondamentale per far sì che possa essere qualcosa da poter combattere e soprattutto da poter vincere. Quindi come ogni anno noi siamo qui e per quello che possiamo cerchiamo di dare il nostro contributo. Tutti volontari? Tutti volontari, assolutamente tutti volontari. Lui è Vittorio, Camilla, Elsa, Salvatore mio marito, Antonio.